Domodossola a partire dal 2025 applicerà la tassa di soggiorno, lo ha deciso la giunta comunale del sindaco Pizzi. Nei giorni scorsi il regolamento attuativo composto da 14 articoli è stato discusso e licenziato dalla competente commissione consigliare. Giovedì sera invece l'argomento figurerà al terzo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Della possibilità di applicare l'imposta a chi per motivi di turismo lavoro soggiorna in città si parla da tempo. La pandemia ha però rallentato l'iter sulla sua introduzione tutte le forze politiche che siedono nell'aula storica della resistenza sembrano ora convergere. Il dibattito della scorsa settimana in seno alla commissione non ha infatti evidenziato particolari questioni. Tutti concordi sull'impostazione che l'amministrazione ha dato al regolamento che per esempio prevede alcune esenzioni. Bimbi di età fino a sei anni, chi soggiornerà a Domodossola per assistere persone ricoverate in strutture sanitarie del territorio e quanti arriveranno a Domodossola per operare in caso di calamità naturale o per soccorsi umanitari. Nella categoria rientrano anche le forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile che a Domodossola si troveranno per servizio. Dalla Lega richiesta appoggiata poi anche da Fratelli d'Italia è arrivata la richiesta appunto di estendere l'esenzione anche ai portatori di handicap. Giovedì in sede di dibattito consigliare si capirà se la questione ha trovato accoglimento o meno. Spetterà poi titolari di strutture ricettive, alberghi, case vacanze, b&b, campeggi, la risconsiglione della tassa. Tutti i proventi che arriveranno dalla stessa saranno investiti dal comune di Domodossola per migliorare la città proprio nel campo turistico.